Gloriosissimo Principe della Milizia Celeste, Arcangelo San Michele, difendeteci in questa ardente battaglia contro tutte le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Venite in soccorso degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio. Voi siete venerato dalla Santa Chiesa quale suo custode e patrono e da voi il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Pregate dunque il Dio della pace a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi affinché non possa continuare a tenere schiavi gli uomini e a danneggiare la Chiesa. Presentate all'Altissimo con le vostre preghiere perché scendano presto su di noi le sue divine misericordie e voi possiate incatenare il dragone, il serpente antico Satana ed incatenarlo negli abissi. Solo così non sedurà più le anime.